Federico e Matteo Fontana a Corriere di Verona, sono i tuoi primi giorni a Verona, primi giorni contraddistinti dal non impiego perché sei costretto a lavorare per recuperare da questo piccolo infortunio, allora ti chiedo innanzitutto come stai e quando sarà possibile vederti in campo? Beh, innanzitutto buonasera a tutti, poi ho avuto questo problema che mi porto di adorare all'europeo e sono arrivato qua avendo avuto pochi giorni di vacanza perché volevo partire subito col gruppo e sono qua e sono venuto per curarmi, diciamo, perché fino adesso non sono mai riuscito a fare un allenamento con la squadra, ho solo fatto il lavoro atletico, poi mi sono fermato perché ho ancora questo fastidio e niente, però stiamo lavorando con lo staff, ogni giorno che passa va sempre meglio però finché non scompare tutto il dolore non mi sembra il caso, soprattutto all'inizio stagione di rischiare. Su te il Verona ha fatto un grosso investimento per il presente e per il futuro, un investimento economico, un investimento di fiducia anche e soprattutto, tu come ti presenti questa nuova realtà e questa che è la tua prima grande avventura nel Serie A? Beh, sicuramente è una grandissima avventura, è una grandissima emozione, è un grandissimo orgoglio soprattutto perché una società come il Verona che spende tanti soldi per un ragazzo che comunque lo scorso anno giocava in Serie B e penso che sia veramente un grandissimo orgoglio, io sono arrivato qua con tanta voglia di fare, tanta voglia di mettermi a disposizione del mister e dei compagni per cercare di portare avanti la stagione del migliore del mondo. Tu sei cresciuto nel vivaglio della Roma e la Roma è stata, ed è, anche padre di, chiamiamola patria, ecco, faccio capire, sia anche un termine piuttosto sensato, di grandissimi registi, di grandissimi centrocampisti, ecco, a parte l'ultimo De Rossi, poi anche Giannini senza andare dietro a Falcavo, ecco, tra questi grandi nomi c'è qualcuno a cui sei particolarmente affezionato emotivamente, magari la giovanità non ti permette di ricordare quelli più distanti se non per il racconto o nella memoria di chi c'era, però magari rivedendoci c'è stato qualche, ti dice, fonte di ispirazione o qualcuno che per te è un simbolo da seguire? Beh, nonostante non ho avuto la fortuna di vedere giocare Falcavo e Giannini perché Falcavo ancora non ero nato, Giannini forse era veramente piccolissimo e ho avuto la fortuna di avere a che fare con Daniele De Rossi e penso che sia normale che sia stato lui un po' la mia chioccia, diciamo, quando ero a Roma perché mi dava tanti consigli, perché mi aiutava tantissimo, perché lasciando da parte il giocatore perché non devo essere io qua a dire che tipo di giocatore è, perché lo abbiamo sempre ammirato tutti sul campo, l'abbiamo sempre visto tutti sul campo. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, ho avuto la fortuna di giocare con lui, anche esordire con lui nella Roma, quindi nonostante fosse stata la sua prima partita di difensore centrale quando ho esordito io, mi tiene molte sicurezze, tantissimi consigli, mi disse che di giocare come sapevo, mi disse che lui mi era vicino, quindi penso che questo per un giovane che si affaccia per la prima volta in un palcoscenico così importante, soprattutto a Roma, penso che sia veramente un motivo di orgoglio, un motivo per cercare di seguire le sue orme, soprattutto come persona, perché ho avuto veramente la fortuna di conoscerlo, non perché io voglia sempre ruggiarlo, voglia sempre parlare di lui, però comunque penso che mi aiutano tanto, mi aiutano tanto a crescere e sicuramente è un grandissimo campione che ancora a 32 anni gioca a questi livelli dopo una vita giocata nella Roma e penso che sia stata quella la cosa che l'ho portato avanti, perché l'umiltà, l'aiutare i giovani che si affacciano alla prima squadra è una cosa molto importante. Un'ultima cosa, in questo momento tu non ci sei, la tua posizione la sta occupando, prima i mitrivoli, sono naturalmente interlocutori, però qualche indicazione la danno, un altro figlio della lupa, nel senso sportivo, che sia ben chiaro, ossia Leandro Greco, tu avrai avuto un modo di già riconoscere i tempi in cui eravate con età diverse, in giallo-rosso. Sì, con Leo ho passato un anno in prima squadra, il mio primo anno nella Roma dove ho anche solito, abbiamo anche giocato qualche partita insieme, quindi lo conosco, lo conosco bene, anche lui è un brevissimo ragazzo, oltre che un buon giocatore, secondo me abbiamo un centro campo in una squadra che secondo me può fare molto bene, chiunque gioca si mette a disposizione del mister e può fare bene, l'importante è che la squadra vada bene e che la squadra raggiunga i risultati, poi certo quando uno sta bene e che se la sente di giocare è ovvio che se la gioca con tutti, però penso che abbia le qualità e l'esperienza per poter fare bene anche in questo luogo.